E' una giornata in cui vogliamo festeggiare l'armo del Cadimare che ha portato dopo nove anni il Paglio del nostro Borgo. E con questo un grande applauso a tutto l'equipaggio, a tutti i ragazzi, perché è una vittoria del gruppo. Con l'applauso all'armo vincitore del Paglio 2019 è stata inaugurata a Cadimare la tradizionale sagra della ciuga ripiena che attira estimatori da ogni parte d'Italia e anche d'Europa. Più di 8.000 le alici farcite con grande perizia dalle mitiche donne del posto, un team di lavoro molto affietato che realizza la prelibata ricetta frutto di tradizione e innovazione per la quale è in corso l'iter per il riconoscimento della DECO, la denominazione comunale. A fare gli onori di casa l'infaticabile presidente della Proloco Giuseppe Meola che ha moderato il dibattito animato dalle numerose autorità intervenute. Nell'occasione Francesco Madalluno ha ricevuto dalle mani di Sua Eccellenza al Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti il premio Acciuga d'Oro per l'impegno dimostrato nel sociale e a favore dello sviluppo del borgo. Presentato inoltre il primo numero del periodico Cadimare, Sapori e Colori del Golfo. L'eurodeputato Brando Benifei ha concluso l'incontro rinnovando il suo impegno in Europa per le politiche a favore del mare e del territorio.